Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo dedicare questa edizione del nostro telegiornale a Ferdinando Maggiani, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari nella giornata di ieri. Ferdinando si era trasferito a Campobasso da Carrara negli anni 50 per indossare la maglietta rosso-blu e nella nostra città rimase anche dopo la fine della carriera sportiva per avviare un'attività commerciale legata ai marmi. Nando, come lo chiamavano tutti, era un uomo buono che avevamo incontrato l'ultima volta ai funerali del suo grande amico e compagno di squadra Nicolino Bellomo. Alla moglie Giselda, ai figli Stefano, Sara e Sergio va la solidarietà più affettuosa da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. E questa puntata del nostro telegiornale sportivo la vogliamo dedicare anche a Pasqualino Molinaro che è stato stroncato da un infarto stanotte nella sua residenza di Trivento. Pasqualino Molinaro, che avevamo conosciuto molto bene e che avevamo imparato ad apprezzare, aveva fatto parte dello staff tecnico del Campobasso nella qualità di preparatore atletico ai tempi della gestione della società da parte di Adelmo Berardo. Pasqualino aveva assicurato le sue prestazioni anche all'atletico Trivento e ad altre squadre molisane. Davvero un uomo tranquillo, molto schivo, che preferiva comunque vivere in disparte piuttosto che stare sotto la luce dei riflettori. Noi lo ricorderemo sempre alla moglie Paola Basile, ai figli Francesca e Franco va l'affetto da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva. Campionato di Serie D per la quarta giornata, match interni per le due molisane. Al Selvapiana arriva la San Maurese, al Civitelle il San Marino. Per il Campobasso torna Sodan dopo la squalifica e termina domani la campagna abbonamenti. L'Olimpia agnonese all'organico al completo, fuori solo l'Itterio, sempre per infortunio. A 48 ore dalla sfida contro la San Maurese, Novelli ha qualche piccolo dubbio di formazione dovuto ai problemi, se tali si possono definire di abbondanza. Non si registrano particolari defezioni, anzi tra gli arruolabili rientra pure il mediano Biranè. Torna a Sudanda, la squalifica scontata. Allora il tecnico sta ragionando ad un ritorno tra i ranghi proprio del marocchino che comporterebbe delle modifiche alla sistemazione dei fuori quota. Il sacrificato in attacco potrebbe essere mulatero, così il quarto under obbligatorio verrebbe collocato in difesa. Almeno queste sono state le indicazioni ricavate dall'amichevole Dierin contro il Castropignano, squadra di seconda categoria. Novelli sottopone i suoi ad intense e lunghe sedute dedicate alla tattica. La squadra stessa evidenzia una certa compattezza tra i reparti sin dalle primissime uscite. Domenica si cercano conferme in fatto di prestazione molto positiva quella di Iesi, condita anche dalla prima vittoria stagionale. A questo punto il Carotti diventa campo fortunato per il campo basso, vittorioso per due anni di fila nella cittadina marchigiana. In entrambe le circostanze il successo è giunto con tre gol all'attivo. La San Maurese è allenata da Stefano Protti, cugino del più noto bomber ex Bari e Lazio Igor e presieduta da Cristiano Protti, a sua volta parente del tecnico. Insomma, è una società a misura di famiglia, portata dall'attuale vertice nel giro di sei anni dal campionato di prima categoria a quello di Serie D nel quale lo scorso anno i romagnoli riuscirono a salvarsi. Prestigioso fu il 2-2 strappato dalla squadra di San Mauro Pascoli al Tardini di Parma. Il prossimo ospite di Selva Piana si annuncia come un avversario scorbutico e molto fisico, capace di due vittorie nelle prime tre di campionato, di cui una molto agevole nello scorso turno contro il Romagna Centro. per la San Maurese hanno realizzato Enrico, Santoni ed il campitano Bonandi per il 3-0 definitivo. La dirigenza Campobassana con Aliberti in testa si aspetta per domenica una cornice di pubblico più numerosa rispetto alle ultime uscite a Selva Piana domani. E' anche il termine ultimo di una campagna abbonamenti che non ha fatto registrare grosse cifre, benché sia stata indetta a prezzi davvero popolari. Insomma, almeno inizialmente, ma forse anche adesso, c'è una certa diffidenza mista a disorientamento nei confronti della nuova proprietà. Se non ci fosse stata la mano di Aliberti, sicuramente si sarebbe scritta la parola fine alla vita del calcio campobassano. Non si lotterà per il vertice e questo è assodato, ma almeno si assiste ad un 11 di ragazzi che lottano con amore e passione per la maglia rosso-blu. Negli ultimi anni ci si era abituati a giocatori super pagati, che probabilmente tutto dimostravano fuorché attaccamento alla causa. Non si può dire che questo sia poco. Come annunciato anche nel TG Sport di ieri, c'è stata una riunione di alcuni tifosi rosso-blu che vorrebbe ridare vitalità al tifo organizzato dopo lo scioglimento del gruppo storico Smoke & Death avvenuto quest'estate. L'intento è quello di ricostituire un nuovo gruppo che riavvicini le persone alla vita della Curva Nord Scorrano. Per ora si tratta di un'idea che cercherà di avere un seguito. Già domani gli iniziatori si recheranno alla rifinitura della squadra per far sentire il proprio apporto e proveranno ad allestire dei pullman per la prossima trasferta del Campobasso in programma il 2 ottobre a Castelfidardo. Prende il via domani il campionato juniors nazionale, debutto in trasferta per il Molisane. Il Campobasso gioca a Pineto, l'Olimpia agnonese all'Aquila, calcio giovanile. Oggi il Circolo La Nebbia ha organizzato la festa della scuola calcio con il primo allenamento di un tecnico del Milan, società alla quale è affiliato il club Matesino. Oggi appuntamento al Borgo Molisano presso Monteverde. Alle 15.30 in campo le categorie sordienti e giovanissimi. 16.30 spazio ai piccoli amici e pulcini. 17.30 in campo gli allievi. E la giornata si concluderà con l'incontro dei tecnici rossoneri con i giocatori in programma alle 18.40. Basket in vista dell'inizio della stagione. La Daik Napoli, formazione di Serie A, ha svolto un test amichevole nel Molise al Pala Unimol con la Battipagliese. Ai nostri microfoni, Ricchini, capo allenatore della squadra partenopea. Coce Ricchini, allenatore del Napoli Basket. Allora, è arrivata una sconfitta qui a Campobasso contro Battipaglia. E' chiaro, siamo in una fase di precampionato. Indicazioni da questa partita. Forse il primo quarto molto male in attacco e soprattutto male in difesa. No, il primo quarto è stato veramente da cancellare proprio perché abbiamo avuto un atteggiamento, un impatto non buono. Vabbè, anche questo ci può servire proprio per capire che con approcci non buoni non si va da nessuna parte, qualunque sia la situazione. Poi abbiamo giocato, abbiamo giocato poi punto a punto, quindi poi alla fine la partita va... Non è così importante, ecco. Non è così importante. È importante invece come si gioca e che tipo di atteggiamento e di soluzioni si prendono sia offensive che difensive. Chiaramente noi siamo ancora indietro, abbiamo ancora grossi problemi perché ci stiamo allenando con le ultime due settimane siamo allenati con tre settimi di... di quattro settimi di giocatrici, quindi anzi no, tre settimi perché ci sono mancati due playmaker che sono rientrati praticamente oggi e c'è un altro playmaker fuori e ci mancano le due americane che fanno reparto delle lunghe per cui siamo con le lunghe abbiamo grossi problemi. Del resto anche Battipadia era senza lunghe perché ha giocato con grande difficoltà quindi questo non deve essere una scusante, niente. Chiaramente dobbiamo lavorare e migliorare molto. È una squadra questa che chiaramente deve essere ancora assemblata però è evidente che punterà sicuramente a fare un buon campionato. Vabbè, sì certo. Vogliamo fare un buon campionato, vogliamo provare a fare un campionato di spessore. L'importante è avere tutta la squadra completo e quando riusciremo a lavorare con la squadra completo sicuramente avremo un'altra qualità. Rapporto Napoli-pallacanestro? Beh, Napoli è una città calciofila come poi con il Napoli che va anche molto bene quindi è molto difficile. Però c'è un certo interesse, c'è Napoli-Napoli, Napoli città-città, tradizione con la maschile, anche con la femminile perché ha vinto Scudetto, ha vinto una Coppa, una FIBA Cup quindi ha un certo seguito, un certo tradizione. Dopo un po' di anni bui adesso si sta ricreando entusiasmo nuovo e voglia nuova. Automobilismo è tutto pronto per il primo slalom città di Macchiagodena. Domani dalle 14.30 le verifiche tecnico-sportive, domenica alle 9.30 la manche di ricognizione e poi la gara vera e propria. lo slalom città di Macchiagodena rientra nel campionato interprovinciale slalomizzati e regolarizzati. Tennis da questa mattina i campi in terra rossa di Villa De Capo stanno ospitando la finale Scudetto maschile Under 12 a squadre. Al via oggi la prima fase del tabellone per la finale Scudetto Under 12 maschile ospitata dal circolo tennis Campobasso. Una tre giorni intensa sui campi in terra rossa di Villa De Capo a confinale in programma domenica. A dare vita a questo torneo nazionale gli atleti di otto società provenienti da ogni parte d'Italia. Un appuntamento di sport ma anche turistico per la nostra regione come ha dichiarato il consigliere con delega allo sport per la regione molise Carmelo Parpiglia. Devo dire che è veramente una manifestazione importante di spessore giovanile e quindi quando si parla di sport giovanili siamo sempre molto attivi, presenti perché si riesce a valorizzare i talenti nostrani ma soprattutto in questa occasione di pre-finale Scudetto Under 12 quindi già questo significa un evento di spessore, di qualità. Ci sono tanti ragazzi le racchette più importanti della nostra Italia che vengono a confrontarsi nella nostra città quindi portando sicuramente alto il livello della competizione della qualità ma un'ulteriore possibilità è quella della valorizzazione della nostra città del nostro territorio eventi di questo tipo portano qua decine di ragazzi con le loro famiglie vengono da Milano, da Roma da Bologna, da Catania quindi un'opportunità di crescita per loro dal punto di vista sportivo e umano ma anche un'opportunità di crescita per la nostra regione la nostra città e sono ben contento che finalmente Villa de Capo e quindi l'associazione Tennis che ha di nuovo preso in mano la gestione riattivando l'entusiasmo e la passione per il tennis è molto importante perché diventa di nuovo un punto di riferimento dello sport e del tennis in particolare della nostra regione con attività di questo spessore diciamo così Calcio a 5 di Serie B domani al Pala Unimo l'arriva il Real Dem società di Serie A ospite del CUS in campo alle 16 sempre domani alla palestra Sturzo il derby tra Chaminade e Benafro fischio d'inizio alle 15.30 per l'Iserni invece trasferta a fondi la gara si gioca domenica per il calcio regionale domani si parte con gli anticipi dopo la parentesi Coppa Italia si torna a parlare del campionato di eccellenza che offrirà anche questo weekend emozioni a getto continuo ai propri appassionati l'ultimo fine settimana di settembre è quello designato per il terzo turno che prevede ben tre anticipi con il via dei confronti alle ore 15 i riflettori principali sono puntati sul terreno di gioco della Life che attende il Benafro Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia con il termoli calcio se da una parte sembra soddisfatto il tecnico Capaccione che vuole solo dare continuità ai risultati positivi ottenuti in campionato dall'altra tra i campani giallo-blu è forte la volontà di riscattare due KO consecutivi rispettivamente con città di Termoli e nel derby con il Treppini Sporting Matese mister detato però per l'incontro di domani allo stadio Mario Spinelli dovrà fare a meno di Antonio Rau che si è operato a causa di una frattura composta del femore inferiore darà il via alla gara Fabrizio Saluppo della sezione di Campobasso altro match interessante è quello tra sesto campano e Treppini Sporting Matese l'undici di mister Cecchino sesto campano proverà a rilanciare le proprie ambizioni dopo il complicato impatto con la nuova stagione in due gare disputate i biancorossi hanno ottenuto un solo punto in classifica domenica scorsa lo scadere al Cannarsa il Treppini invece che ha sfruttato al meglio gli ultimi due turni casalinghi è pronto per la prima trasferta di stagione in casa del sesto campano i ragazzi di Cagnale del Treppini complice all'ottimo risultato ottenuto in Coppa contro il Campo di Pietra sono determinati a restare nelle posizioni di vertice del torneo giudice del match Luca Zippilli di Ascoli Piceno il città di Termoli sarà di scena all'antistadio Selvapiana dove ad attenderla ci sarà il Campobasso 19-19 locale ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato per quanto riguarda la società giallorossa i ragazzi di Precale mercoledì in Coppa Italia nonostante la sconfitta al Marchese Prete di Venafro si sono qualificati agli ottavi e guardano con positività l'incontro di domani con due rei 90 minuti Tommaso Righi di Bologna passando in cadetteria sono solo quattro le squadre che scenderanno in campo domani la base di Elsie Metazilembo dopo aver avuto la meglio sul Baranello nell'ultimo turno di Coppa in seguito al pareggio con i Molise in campionato andrà in cerca del successo in casa del Cerce Maggiore l'arbitro dell'incontro sarà Davide Mastroianni della sezione di Sernia chiude il programma degli anticipi la FVP Matese che vuole mettere in cassaforte i tre punti ma la compagine bianco-verde deve rimanere vigile i ragazzi dovranno affrontare tra le mura dello Stadio Ferrante il Real San Martino con il dente avvelenato a causa della sconfitta nell'ultimo turno di Coppa con il Boiano darà il via la gara Sebastien Bruscino di Campobasso dopo il pareggio con il sesto campano voglia di riscatto per il Termoli ne abbiamo parlato con Polzella Fabrizio Polzella senti tante occasioni create però anche tante sciupate si si chiude prima la partita ovviamente siamo qui a parlare dei tre punti però molta fiducia sia dei ragazzi in tutta la squadra perché ripeto abbiamo giocato con quattro under e con altre tre quattro persone che non erano under che comunque è 94 la squadra è giovane diamoli tempo e secondo me diremo la nostra al campionato bella gioia quando hai fatto il gol bello anche l'approvso finale del pubblico quando sei uscito la standing ovation ti ha concesso questo il mister si questo mi sono molto contento di questo però insomma se se finiva 2-1 ero ancora più contento dico la verità però va bene è così e pensiamo già alla prossima avvio di stagione positivo per Lisernia e per il suo attaccante Iaboni siamo con Armando Iaboni attaccante dell'Isernia insomma sei gol in due partite è un buon bottino stai trascinando questi Sernia in questa prima parte di campionato sì a livello personale sono contento però il merito è di questi ragazzi che sono sono dei grandi in tutto e per tutto sono molto orgoglioso di rappresentare questi ragazzi perché hanno uno spirito al lavoro esagerato quindi quindi sono contento di lavorare con loro ecco vorrei comunque continuare a trascinare questi Sernia a suon di colo comunque anche con l'appoggio da parte dei tuoi compagni sì sì è normale che le responsabilità tra virgolette come si dice sono le mie di Cantoro di Mingione è normale che i ragazzini sono alla prima esperienza quindi è normale che da loro non cerchiamo niente aspetta a noi grandi trascinarli e poi un giorno speriamo che questi ragazzini ci danno una mano ecco tra le favorite comunque ci siete sempre anche voi ma tra le favorite secondo me sulla carta ci sono delle squadre più attrezzate però i campionati non si vincono sulla carta si vincono sul campo e io sinceramente sono venuto a Isernia per vincere il campionato e non sono venuto a Isernia per perdere tempo ecco tra le favorite a tuo modesto parere chi vedi più forte ma sulla carta no più forte sulla carta Vasto Girardi Macchia Treppini però noi siamo l'Isernia non abbiamo paura di nessuno Seconda gara interna per il Gambatesa che ospita l'Isernia Antonello Conte capitano del Gambatesa sono sei punti in classifica quindi guardate avanti magari puntate a qualcosa in più della salvezza Noi guardiamo partita dopo partita diciamo che il nostro obiettivo è sempre quello di fare dei punti che ci permettono di stare tranquilli poi per il finale di stagione poi è ovvio che le potenzialità le abbiamo quest'anno abbiamo un organico a partire dallo staff tecnico fino all'ultimo giocatore che ci possono far credere anche di poter fare qualcosa in più della semplice salvezza Infatti in questa partita si è vista una migliore gestione della palla avete sofferto quasi mai quindi è un Gambatese che ha una mentalità molto diversa da quella dell'anno scorso ovvio che qualcosa doveva cambiare a Gambatese dopo tutti questi anni dei campionati che abbiamo fatto con obiettivi salvezza e questa mentalità la dobbiamo portare assolutamente fino alla fine perché ci permetterà in primis di raggiungere prima la salvezza e poi poterci divertire Buona la partenza della macchia tra le squadre a punteggio pieno Alberto Stasi presidente del macchia è arrivata la seconda vittoria Una seconda vittoria diciamo facilmente acquisita abbiamo giocato un boom primo tempo e un ottimo secondo tempo la squadra che abbiamo incontrato era una bella squadra però noi abbiamo dimostrato di essere più forti di loro Una cosa che ho notato tanti tanti giovani in squadra È il nostro è il nostro il nostro obiettivo quello di far giocare sempre più giovani siamo partiti così e continuiamo così Quindi quali sono gli obiettivi prefissati per la fine del campionato? No gli obiettivi non si prefissano si spera sempre di vincere e di continuare sempre a vincere però poi alla fine è il campo quello che conta Nel campionato di promozione il Castel Mauro prepara la gara di Biccari Sandro Espocito allenatore del Castel Mauro è un punto portato a casa che vi fa onore dopo la sconfitta della giornata precedente No ma la sconfitta della giornata precedente oddio forse non ci dovevamo manco stare siamo andati con qualche assenza lì ho schierato quattro fuori quote in campo non riesco a capire come si riesca a fare un campionato molisano con due ore e mezza di trasferta ma questa è un'altra è un'altra storia e devo dire che se giochiamo sempre così anche se abbiamo un inizio di campionato davvero infame devo dire che ci toglieremo delle ottime soddisfazioni Prossima gara fuori casa con chi? Col Biccari purtroppo abbiamo questo inizio di campionato che sembra quasi un film dell'orrore però con questi ragazzi qua con la loro disponibilità con il loro impegno mi stanno molto a sentire lavorano tanto sono un bel gruppetto io sono molto contento forse il punto ci fa anche un po' difetto mi sta stretto il punto devo dire la verità però per come è andata non posso che essere soddisfatto e sicuramente ci saranno anche delle cose da migliorare da limare però è una squadra giovane ha tutto il tempo da imparare e andiamo avanti così Il Molise reduce dal pareggio interno con lo Yelzi domenica sarà di scena a Boiano Andrea Gianfagna allora punto contro lo Yelzi passati in vantaggio in una ripresa forse poi è mancato il colpo del K.O. Sì è una bellissima partita a mio avviso tra due ottime squadre peccato perché abbiamo trovato il vantaggio credo al ventesimo alla metà del secondo tempo potevamo mantenere il vantaggio però è andata così e ci prendiamo questo punto a mio avviso con un'ottima squadra Senti questo è un campionato abbastanza equilibrato lo sai meglio di me dove voi siete una squadra giovane quindi dovrete sempre avere un certo equilibrio non semplice per una squadra fatta da ragazzi ma noi abbiamo il campionato l'anno scorso quest'anno come primo anno di promozione abbiamo tanti ragazzi sì siamo tutti giovani sulla media di 20-25 anni cerchiamo il nostro obiettivo è di salvarci poi se arriva fuori qualcosa in più siamo tutti felici e contenti match casalingo con il Campomarino per la Frentania Leo Tanga mister della Frentania arrivata alla prima vittoria in campionato sì diciamo che siamo felici sicuramente di questo di questo risultato anche perché avevamo bisogno di un risultato positivo perché le prestazioni comunque erano buone sia la prima di campionato che l'ultima di Coppa Italia e quindi penso che con una vittoria riusciamo sicuramente a lavorare meglio durante la settimana Obiettivi che avete previstato con la società? Gli obiettivi della società anche vedendo un attimo il mercato è quello di cercare di fare un campionato di vertice di essere protagonisti fino alla fine quindi questi sono gli obiettivi pensando però a domenica su domenica insomma Atletica è in programma domani il quarantesimo Memorial Musacchio al campo scuola Nicola Palladino saranno presenti le rappresentative di Umbria Marche, Campania Abruzzo, Basilicata Puglia e Calabria Ed ora il cartellino rosso E va E va E va Va avanti tu che adesso c'ho da far Sarai la mia metà ma si non parti Diventi un altro bolla mia tre quarti E va E va non puoi non puoi sapere piacere che me fa magari qualche amico di consola così tu fai la scarpa e lui te sola io te ce l'anno sola io te ce l'anno sola sola senza nero a metà Castelmauro si chiamerà così la nuova squadra di calcio composta sia da giocatori locali che da immigrati ospiti nel centro d'accoglienza omonimo la squadra parteciperà al prossimo campionato amatori del CSI e ha bisogno di autofinanziarsi allora ho deciso di organizzare una cena presso il centro polifunzionale di Trivento la giornata si svolgerà in tre fasi oggi dalle ore 18 laboratorio di arte creativa con i bambini del territorio in collaborazione con i ragazzi del CAS di Castelmauro a seguire 19.30 ci sarà il saluto delle autorità alle 20 sarà servita la cena etnica bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio a l'anima a l'anima a l'anima Grazie.